Qualche tempo fa ho pubblicato un video dove parlavo di come capire se sia conveniente rimanere in affitto oppure comprare un immobile e andare a vivere in un immobile di proprietà. Alla luce degli ultimi avvenimenti, quindi inflazione, guerre e aumento dei tassi di interesse sui mutui, devo per forza fare un aggiornamento per capire se oggi questa regola sia ancora applicabile, la regola del 3% in cui parlavo nel video, e se nel 2023 conviene rimanere in affitto oppure comprare un immobile. Mi chiamo Jacopo, sono un agente e consulente immobiliare e tutte le settimane pubblico nuovi video, quindi iscriviti al canale, metti mi piace a questo video, commenta se hai qualche domanda o vuoi raccontare la tua esperienza. Inoltre se hai bisogno di una consulenza o di più informazioni, quindi ti possiamo aiutare nell'acquisto, nella vendita o nella gestione di un immobile o più immobili, puoi contattarci dai recapiti che trovi in descrizione a questo video. Riassumendo veramente in maniera strinta, ma vi consiglio veramente di andare a vedere quel video perché vi aiuta a capire le dinamiche, se l'affitto era più alto del 3% all'anno del valore dell'immobile, era conveniente comprare un immobile, viceversa era più conveniente rimanere in affitto. Facciamo un esempio numerico pratico, se un immobile vale 100.000 euro e l'affitto è superiore a 3.000 euro all'anno, allora mi conviene comprarlo, quell'immobile. Se invece l'affitto è inferiore ai 3.000 euro all'anno per quello stesso immobile da 100.000 euro, allora mi conviene rimanere in affitto. Il problema è che con l'aumento dei tassi di interesse il 3% non è più valido, ovvero la regola, il metodo di calcolo è sempre lo stesso, ma il 3% non è più un 3% perché il 3% includeva il costo del denaro che dobbiamo impiegare nell'acquisto dell'immobile, sia che lo stiamo prendendo a presto da una banca, sia che stiamo utilizzando denaro di nostra proprietà, la manutenzione dell'immobile e le tasse. Se il tasso di interesse aumenta, ovviamente non dovremo più parlare della regola del 3%, ma andremo magari a parlare della regola del 4, del 5. Questa percentuale infatti rappresenta le spese perse, le spese che non possiamo recuperare quando possediamo un immobile, che sono essenzialmente i tassi di interesse, la manutenzione dell'immobile e le tasse. Se una di queste voci aumenta, per esempio i tassi di interesse, ovviamente diventa meno conveniente possedere un immobile, quindi vivere in un immobile di proprietà, e diventa più conveniente invece averlo in affitto, dove non dobbiamo impegnare capitale proprio o capitale preso in prezzo dalla banca, e quindi non dobbiamo pagare i tassi di interesse. Attenzione però che questo non vuol dire che in assoluto sia più conveniente vivere in affitto che comprare un immobile, perché dobbiamo fare anche i conti con il mercato delle locazioni. Il mercato delle locazioni negli ultimi anni è letteralmente esploso. Se andiamo a vedere i grafici che troviamo sui vari portali, per esempio immobiliare.it, vediamo che in quasi tutte le città d'Italia il prezzo di locazione degli immobili è aumentato tantissimo, mentre il prezzo di acquisto degli immobili è diminuito. Quindi è vero che la regola del 3% magari è diventato il 4% o il 5%, ma è anche vero che stanno aumentando anche i prezzi delle locazioni. Quindi ognuno di voi deve fare questo calcolo e capire nel suo caso specifico, nella sua zona, sull'immobile che piace, se è più conveniente rimanere in affitto o comprarlo. Ma facciamo subito un esempio pratico per capire meglio la situazione. Supponiamo che ci sia un immobile che vale 100.000 euro. Io posso viverci in affitto pagando 500 euro al mese, il che vuol dire che andrò a pagare 6.000 euro all'anno di affitti. Per comprarlo, viceversa, avrò bisogno di 100.000 euro. Oggi 100.000 euro ci vengono prestati ad un tasso di interesse di circa il 4%, quindi è quella la percentuale che noi dobbiamo considerare come costi persi. La dobbiamo considerare anche se quei 100.000 euro ce li togliamo di tasca, perché quei 100.000 euro li potremmo investire in altro e ottenere una rendita, quindi ci stiamo privando di quella rendita per comprare quell'immobile. Quindi stiamo pagando dei costi, come se pagassimo l'interesse alla banca. Quindi supponiamo 4% di interesse. Dopodiché dobbiamo considerare la manutenzione dell'immobile e convenzionalmente si utilizza una regola base che è l'1% all'anno del valore dell'immobile. Quindi noi dobbiamo accantonare l'1% del valore dell'immobile ogni anno, anche se non dobbiamo fare interventi di manutenzione per far sì che quando li dovremo fare avremo a disposizione il denaro. Nel caso in cui acquistiamo come prima casa non avremo tasse, quindi perché non c'è l'imu sulla prima casa, quindi le nostre spese perse che non possiamo recuperare sono il 4% di interesse più l'1% di manutenzione, ovvero il 5%. Il 5% di 100.000 euro sono 5.000 euro all'anno. Se noi per vivere in affitto ne dobbiamo spendere 6.000, a quel punto ci conviene ovviamente comprarlo l'immobile, anche se i tassi di interesse sono aumentati perché ci costa meno avere quell'immobile di proprietà piuttosto che vivere in affitto. Detto questo vorrei sapere cosa ne pensi, in questo momento è più conveniente comprare o rimanere in affitto? Puoi commentare qui sotto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!